What's going on? Nina è di sinistra. Ma mia, una passione inquietante, Martina. Giulio, di destra. Ti sei innamorata di un stronzo. Ma quando li colpirà la passione? Non si ripeterà più. Chiuso. Chiuso. Sarà difficile sapere da che parte stare. Ma chi sei la destra? Domani voglio provare a essere come una di quelle che piacciono a loro. Allora, economia, libertà o uguaglianza? Libertà. Paesi emergenti. Bombardare e poi ricostruire. Cosa mangi se hai fame? Il kebab vi va? No che non mangi il kebab! Tu mangi il sushi! Il kebab è di sinistra, il sushi è di destra! Passione Sinistra, al cinema. Pronta? Pronta. Andiamo. Allora, economia, libertà o uguaglianza? Libertà. Benissimo. Diritti civili, tradizione o libertà? Tradizione. Paesi emergenti. Bombardare e poi ricostruire. Terzo mondo. Aiutiamoli, sì. Ma a casa loro. Parrucchie? Una volta a settimana. Depilazione? Totale. In vacanza. Maldive, Canarie? Baleari. D'inverno? St. Morris, Cortina e Cervigna. Eroi? Briatore, Chuck Norris, Topolina. Montanelli? No, non so. Ma sai che una coppia di magrebini ha aperto un negozio qua sotto in quel solidale carinissimo? Ma dai, andiamoci subito, no? Ma no, che non ci andiamo! Noi non ci andiamo a negozio in quel solidale! Noi non ci andiamo se quelli hanno un'economia sottosviluppata! Sono affari loro! Scusate, 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 ci avete ragione. Mangiamo qualcosa. Eh, se hai fame cosa mangi? Cosa mangi se hai fame? Il kebab vi va? No che lo mangi il kebab! Tu mangi il sushi! Tu mangi il sushi! Il kebab è di sinistra, il sushi è di destra! Non ce la faremo mai!